Non c'ho parole, non so neanche più che dire perché qua non si riesce a fare un risultato neanche con l'ultima in classifica. La Roma va a Monza e va a Monza a fare la solita partita da Roma che va a Monza, ovvero una partita in cui dietro si sbaglia tantissimo e ti grazia, no? E davanti si sbaglia altrettanto perché crei tantissime occasioni, tantissime occasioni, ne butti dentro una, una, una. La Roma ha avuto secondo me 5-6 palle gol nitide, una buttata dentro, le altre qualcuna fuori, qualcuna sottoporta non tiri, qualcuna zappi per terra, qualcuna sottoporta piattone. Così, in Champions, già non c'hai la squadra, già devi giocare di rimessa approfittando degli errori altrui se giochi così, se non ammazzi, se non addenti queste partite. Ma quando ci arrivi? Ma quando ci arrivi in Champions? Così, ma manco in Europa League, manco in Europa League. Comunque, prima di parlare di questa gara, iscrivetevi, lasciate tanti like, tanti commenti e seguitemi anche sugli altri social, come sempre link in bio. Allora, una partita neanche troppo malvagia per quanto riguarda proprio la performance in sé, la prestazione, perché secondo me la Roma è vero, dietro ha fatto malissimo, un mezzo disastro, ma anche tanti errori banali. Mancini, primo tempo disastroso, dormiva, dormiva in piedi, ma anche Zaleschi, appena entrato quel retropassaggio killer, il Monza, per fortuna che è il Monza, perché se oggi avessi trovato di fronte qualsiasi altra squadra, la perdevi senza alcun problema, perché hai concesso troppe palle e gol, ma quasi autogol, parliamoci chiaro, la Roma quasi quasi si è fatta autogol, a parte il gol quello vero e poi anche lì la marcatura è quello che è. Ma nel primo tempo io vedo Maldini che davanti alla porta per fortuna la tira addosso a svilare, vedo poi sempre Maldini che qualche istante dopo davanti alla porta non la tira addosso, se la fa addosso e vede svilare in uscita non calcia, per fortuna. Ma la Roma lì dietro è stata proprio dormiente, proprio addormentata, assonnata. Davanti sì, si crea, oggi non si può imputare niente alle occasioni non create, il problema è che non la butti dentro, il problema è che nel primo tempo Pellegrini ha una palla sul destro e ci va di piatto e la palla sfila. Dovbic nel secondo davanti alla porta, lanciato a rete, tira da 25 metri, la tira malissimo, fra l'altro neanche prende la porta eppure di parecchio. Con è un paio di palle, tutti e due al lato, capite bene che quando ti capitano così tante occasioni e non ne butti dentro neanche mezza, la partita non la vincerai mai e giocavi contro una squadra che al di là delle valutazioni soggettive era ultima in classifica, era ultima in classifica con tre punti fatti in sei partite. Tre punti fatti in sei partite, quindi il bilancio non può essere positivo del Monza, non può essere positivo mai. La Roma però queste cose, tra virgolette, quasi quasi si fa autogol, ve l'ho detto, è una Roma che fatica, ma fatica secondo me perde meriti propri, fatica perché vuole faticare, perché non riesce mai a chiudere neanche partite che andrebbero vinte tranquillamente. In qualche modo riesci ad andare avanti a 30 dalla fine, quindi a partita già ben indirizzata, non è che eravamo al quinto minuto, riesci ad andare in qualche modo avanti e poi sprechi tutto. E poi sprechi tutto ragazzi, perché comunque quello lì è un'occasione in cui letteralmente dormi in piedi, dormi in piedi sul gol di Dani Mota. Che vi devo dire? Oggi secondo me non è colpa di Juric, non trovo grandi responsabilità di Juric, è vero sicuramente poteva magari gestire meglio qualche singolo, qualche cambio, per dire Baldanzi dentro prima. Però poi poco altro, perché la Roma comunque le occasioni le ha avute, se nessuno la butta dentro non può neanche essere colpa di Juric, secondo me, secondo me. Poi ho letto in settimana una cosa che è abbastanza imbarazzante a mio avviso, ovvero una voce di un possibile sonero di Juric in caso di non vittoria, come poi è successo, come poi si è verificato, a Monza. Ora, va bene tutto, per carità, però mi sembra una cosa normale, io non è che sia un fan di Juric sfegatato, ma capite bene che hai fatto fare quattro partite a De Rossi, ne ha fatte quante, in campionato 3 e 2 in Coppa Juric, adesso cambiamo. Ogni settimana quasi cambia allenatore. Ragazzi, che vi devo dire, cioè, una cosa che mi lascia senza parole, non perché Juric stia facendo risultati entusiasmanti, ma uno perché la domanda mia è che t'aspettavi? Cioè che Juric arrivasse qua e la Roma andasse in Champions, così, Champions. E due perché anche se avesse fatto zero punti, quindi al di sotto delle aspettative che non potevano in ogni caso essere alte, riguardo Juric, anche se avesse fatto malissimo e non l'ha fatto rispetto alle aspettative, è più o meno in linea, ovvero un allenatore discreto, risultati da allenatore discreto. Ehm, anche se avesse fatto malissimo, che fai? Dopo 5 partite già ricambi, che fai? Chiami De Rossi un'altra volta? Ridicolo, e De Rossi non accetterebbe mai, perché secondo me, chiunque con un minimo di dignità per il modo in cui è stato mandato via, non accetterebbe un ritorno. E quindi? Paghi un terzo allenatore, cioè tu in 10 partite, per 10 partite di campionato, ti ritrovi a pagare 3 allenatori diversi, 3, 3. E poi sì, oggi si può anche discutere di quel rigore su Baldanzi, ragazzi, il difensore gli si appoggia e la palla non la vede, secondo me ci poteva stare il rigore, sono sincero, non è una cosa netta, ci poteva stare a 2 minuti, 3 minuti, dalla fine poteva cambiare questa partita? Sì, sicuramente sì, e se io non è che sono uno di quelli che dice, eh, la Roma ha perso, quindi, visto che stava giocando troppo male, cioè ha perso, nel senso ha pareggiato, ha perso la partita, questa è una mezza sconfitta, parliamoci chiaro. Quindi, proprio perché ha giocato male, non meritava magari neanche di vincere, giusto così. Allora, non è giusto così, se c'è, c'è, punto. Certamente non è che tu non vinci, cioè tu dovevi vincere a prescindere dal rigore, dovevi già stare in condizione di non doverti appellare al rigore per la mancata vittoria. Ti potevi appellare al rigore per dire, magari, alle brutte, non l'ho chiusa prima, potevo evitare 10 minuti di sofferenza e non l'ho chiusa prima, perché non c'è stato il rigore? E ok, lo accetto, però non è che puoi andare all'88 a Monza contro l'ultimo a pareggiare e dici, oh, il rigore non mi hanno dato, allora ce l'hanno rubata, è colpa del rigore. Già la Roma doveva fare il suo e stare a vincere prima di quel calcio di rigore, punto, punto. Poi se c'è, secondo me ci può stare, visti i rigori anche che si danno, non mi sembra sinceramente un furto, visto che comunque il difensore gli si appoggia, la palla non la tocca, Baldanzi cade. Poi sì, non è che sia una scivolata dentro l'area alla Sergio Ramos, Killer, che è un rigore sacrosanto, rosso, ergasto, le 41 bis, però secondo me è un rigore che ci potrebbe anche stare. Che cos'altro dirvi? Secondo me oggi hanno fatto bene con i pellegrini, Dovbic un gollo fa, un e mezzo se ne magna, un po' come sempre ragazzi, Dovbic è un buon giocatore, però sbaglia tanto, deve affinare tanto la tecnica sottoporta, secondo me sente tanto la pressione, così come la sente tantissimo sulle che anche oggi ho visto spento. Che cos'altro? La Roma non è messa bene come classifica, per fortuna tante big stanno faticando, ma se pensiamo che il massimo è 21 punti e che la Roma ne ha fatti appena 10, capite bene che fare meno della metà dei punti giunti a ottobre non è un bilancio minimamente positivo, ma minimamente proprio. E la Roma non è che abbia fatto tutti questi big match, anzi, quindi un minimo in più. Adesso arriverà il Tour de Force, adesso dopo la pausa vedremo un po' la Roma con tre partite a settimana, con la Fiorentina, con l'Inter, vediamo un po' come se la cava. Questa era la fase un po' di prova e neanche la fase di prova di Juric è andata così bene, però non ci resta che attendere. Comunque, con questo passo e chiudo, mi raccomando, iscrivetevi, like e commento e sempre Forza Roma!